Da tre mesi senza stipendio i dipendenti della concessionaria mobilità e parcheggi dell'Aquila parliamo di 20 unità che prima lavoravano grazie ai parcheggi a rasio al terminal di Colle Maggio nessun ammortizzatore sociale per loro è una condizione che non è più accettabile In questo momento sono arretrato di tre mensilità e purtroppo anche dei crediti fiscali perché in questo momento i ragazzi sono degli onesti contribuenti, fa solo i loro doveri fiscali e però non hanno indietro quello che è il loro credito perché l'azienda è in ritardo con i pagamenti la condizione è diventata insostenibile, ormai lo è subito dopo il terremoto con rinvii sulle decisioni, se riattivare o non riattivare i parcheggi a rasio in questa città è una decisione ovviamente politica da prendere non è accettabile però che si vada avanti con la politica dei rinvii una decisione da presa o la convenzione viene riattivata integralmente oppure si scelgono altre strade I sindacati chiedono una posizione netta all'assessore alla mobilità del comune dell'Aquila Carla Mannetti che ancora non riescono ad affrontare in maniera decisa per trovare una soluzione Voi avete già parlato con l'assessore comunale Mannetti di questo? Sì, ne abbiamo avuto degli approcci informali, abbiamo una richiesta di incontro ormai dal 5 di settembre ovviamente le responsabilità partono dal passato però oggi è chiaro che chi è stato scelto dai cittadini per prendere delle decisioni lo debba fare in maniera veloce Ecco, voi pensate ad azioni di protesta? Beh, per ora noi vorremmo provare a trovare una soluzione perché quei ragazzi hanno già passato nove anni di sofferenze sono dovuti ridurre l'orario di lavoro, quindi ridurre il loro livello di reddito ora non sappiamo più dove era schiare il fondo del barile Di quante persone parliamo? In questo momento di quasi 20 unità, le quali sono quasi tutte part time perché da un contratto full time sono dovute scendere a un contratto part time ma oggi è divenuto insostenibile anche quel livello d'orario Grazie Grazie Grazie